Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla 18esima edizione.surrealtime, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 1350, va in onda il day time di Amici 18 con protagonisti gli allievi del talent show di Canale 5.La striscia pomeridiana è condotta da Lorella Boccia, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Su Sunsblog, magazine di blog, il live blogging.Amici 18 le anticipazioni del 5 dicembre 2018 La striscia quotidiana di Amici 18 segue il percorso degli allievi che, come ad ogni edizione, hanno l'obiettivo di raggiungere la fase serale del programma.Gli allievi della classe di questa edizione, Al momento, sono i seguenti Giordana Angi, Mameli, Tish, Daniel Piccirillo, Alessandro Casillo, Giacomo Eva, Gefeo e Alberto Urso sono i cantanti Miguel Chavez, Arianna Forte, Marco Alimenti, Muocchi, Giussi Romaldi e Anna Maria Ciccarelli Mimmi sono i ballerini.I professori di questa edizione sono i seguenti Rudy Zervi, Stesh e Alex Britti sono gli insegnanti di canto, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Stefans sono gli insegnanti di danza. Amici 18 dove vederlo La striscia quotidiana di Amici 18 va in onda su Real Time, a partire dalle ore 1350, dal lunedì al venerdì.La puntata andrà in onda anche in streaming su The Play.La puntata e i video riguardanti La vita nella scuola dei nuovi allievi sono disponibili anche sul sito WITTV e su The Play.Amici 18 Second Screen Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata al talent show Amici.Amici ha una sezione dedicata anche nel sito ufficiale di The Play.Su Facebook La pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi.Su Twitter L'account ufficiale del programma è Chiocciola Amici Ufficiale La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag Cancelletto Amici di The Play.